buonasera e buongiorno a tutte le ragazze bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui per parlare di lui non hai messo a fuoco ecco di lui ossia il mio iphone un l'iphone si l'iphone 11 perché ogni tanto mi sembra di tenere in mano un iphone 12 pro xs max ultra e quindi oggi parleremo di cosa c'è dentro il mio iphone stagione 2021 quindi facciamo partire giac si gira come potete vedere il iphone 12 a uno sfondo origine allo sfondo origino problemi e tecnici ok partiamo un'altra volta che ma che bello diventiamolo colorato come piaccia a me e partiamo lo sfondo è uguale come potete vedere ho due finestre si può dire 6 dove nella prima tutte le applicazioni di apple e quindi impostazioni face time che uso quando ci chiamiamo quelli fly e blablabla e dove app dove ma non lo apro perché sennò stalkerate me e let's fly anche mia sorella quindi passiamo alle cose più cicciose di questo video abbiamo più o più o meno qua cinque cartelle si sono cartelle 5 scomparti 5 qualcosa dove in ognuna ci sono detto applicazione e ogni cartella è stata nominata in modo logico razionale e basta quindi partiamo con la finanza dove ho il mio conto n26 perché non sono fuoco ok sono fuoco poi ho paypal che non uso qui ne posso anche di installare ma ho ormai fatto accanto quindi me ne posso anche tenere e ho amazon che tipo il mio socio preferito perché qua non so cosa fare sto delle ore a cercare cose inutili compro anche cose inutili tipo questo microfonino qui che non tanto inutile poi passiamo nella cartella varie che vado in colonne invece che in righe c'è dove ho flatrader24 che sapete cos'è ormai spirit test per verificare se funziona la rete internet di questa casa che è un gioco bellissimo ma non lo è proprio da due giorni quindi lo apriamo con voi è un gioco di non so che gioco è vabbè è un gioco molto bello molto molto bello vabbè molto interessante io poi ho sinjik vabbè è tipo mappe di apple c'è un navigatore per la macchina tutto qua poi passiamo intrattenimento dove ho amazon prime video per vedere le serie tv di amazon poi ho netflix che chi non usa netflix ho twitter cacchio non lo dovevo dire ma è lo stesso e il canale viola quindi seguitici anche lì vi metto sotto il link per iscrivervi al canale viola poi ho youtube music si nel 2021 ho iniziato ad ascoltare musica anch'io marzo 2021 fine marzo 2021 poi ho youtube che non serve dire cos'è però account dove ho tutti i miei account tipo post id per utenti a utenti per vedere chi sono poi ho account access che è il programma per gli accessi di adobe quindi tutti i programmi editing video e cose così come premier photoshop e basta cioè ci sono altri programmi ma non li uso quindi vabbè autenticator che è per google dove ho dentro il mio carto di epic game launcher vabbè e steam è tipo è la stessa cosa di poi nella posizione social perché sono molto social seguitici o instagram facebook e telegram seguitici per rimanere informati sulle offerte di questo canale voi iscrivetevi comparino delle notifiche molto molto belle poi ho tik tok che è molto bello e whatsapp si sono ritornato dopo ma quant'è che non ce l'avevo un anno due quasi due anni sono ritornato su whatsapp e snapchat per fare i filtri tipo non se c'è ancora quello bello ecco questo qui è quanto sono bello cartone animato molto brutto molto brutto e poi ho per una cartella solo dedicata per youtube che ho youtube studio che serve per noi creator per vedere come va il video i vari video i vari video dei vabbè dj go per serve per quel coso lì che il mavic pro per il drone e i movie per serve per editare il video che sto iniziare su telefono e poi me lo spostavo su il computer e finivo da lì e basta è come doc o email che guardo sempre e sa fare per navigare su internet e contatti e messaggi ma che non posso aprire se no sapete tutto della mia vita privata e quindi è meglio di no tutto qua semplice essenziale ovviamente sui social non tanto essenziale ma è l'essenziale il giusto e quindi per questo bellissimo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo video che non so cosa farò ma speriamo che lo faccio e se commentate no scherzavo ricordati di fare questo mettere un like ogni video che faremo d'oggi in poi ma non so se non so quando uscirà questo video quindi metti like comunque commenta se vuoi commentare anzi commenta e basta condividi questo video con i con chi vuoi e iscriviti a tutti i profili sotto possibili sui nostri canali e di vario genere quindi noi ci vediamo in un prossimo video e ciao